Urbino, la città ducale, sotto la coltre nevosa, regala sempre suggestivi paesaggi e scorci emozionanti. Percorriamo a piedi, non senza difficoltà, l'impervio passaggio che dai Torriccini ci porta direttamente a Palazzo Ducale, dove sul parapetto la neve intonsa ci rivela senza ombra di dubbi i diversi centimetri di neve caduti in città. Arrivati davanti alla cattedrale, usciti dal porticato, l'ovattata atmosfera che si respira ci fa capire come già pochi centimetri di neve possono mutare il paesaggio ed il modo di percepirlo. I vicoli, le strade in salita, gli spiazzi, sembrano un altro luogo, un luogo diverso, un altro posto dove tutto cambia pur restando uguale. È sempre piacevole, insomma, al di là. Sì, dai, fa festa la neve. Fa festa. Di dove sei tu? Faenza. Insomma, quindi la neve non è proprio misconosciuta. È da un po' che non si vede, però dai, fa piacere ogni tanto che ricompare. Voi qui a Urbino siete abituati? Sì, sì, dopo il 2012 noi ci siamo abituati al nevone, questo è in confronto a niente. Ho dovuto avvisare i miei amici del mio ritardo a causa della neve. A causa della neve, sì. Vabbè, comunque al di là di tutto è piacevole, è un po'. Sì, sì, Urbino è sempre magico e magnifica. Come si circola con la neve? Bene. Bene? Bene, bene. Siete abituati voi con le consegne? Sì, questa rispetto a quella di qualche anno fa è niente. Anche se bisogna lavorare, nonostante tutto va bene. Se peggiora, se vediamo che si mette in discussione l'incomunità della gente e mia, ci si ferma chiaramente. Qui la neve, sanno bene cos'è, nel 2012 Urbino fu seppellita sotto tre metri di neve e le difficoltà però furono superate con grande abilità da tutti. Un'esperienza che ora però ha consentito di mettere a punto un piano neve a prova di Buran. Speriamo innanzitutto che sia una nevicata non così copiosa come è stata annunciata perché chiaramente è annunciato diversi giorni di neve. Diciamo che noi per quello che possiamo abbiamo tutto il piano neve con tutte le ditte, i nostri uffici comunali e quindi il nostro magazzino che è per lo spandimento del sale, per il ghiaino e anche con la società Urbino Servizi che abbiamo incaricato da quest'anno della pulizia dei marciapiedi insieme alla protezione civile, quindi alle persone che sono addette alla protezione civile. Pongo chiaramente l'attenzione dei cittadini soprattutto anche all'eventuale chiusura delle scuole perché chiaramente si deciderà sempre all'ultimo minuto perché è difficile prevedere se il caso è meno perché stamattina le abbiamo lasciate aperte, domani pensiamo altrettanto però se dovessero peggiorare le condizioni non è detta che all'ultimo minuto non siamo costretti a chiudere le scuole. Per ora non è previsto però porre attenzione perché potrebbe essere fatto anche nelle ore tarde della serata questa decisione potrebbe essere presa.